a caldo lo so pure perché oggi finiamo il capitolo ottavo del libro degli spiriti prendete le vostre bottiglie d'acqua ok prendete le vostre bottiglie d'acqua perché possiamo cominciare la nostra preghiera ragazzi più ne parliamo più sentiamo cerchiamo di non parlare non lamentare ecco qua allora buonasera a tutti voi buonasera lo specchio dell'anima ragazzi gina siete sempre disponibili siete sempre meravigliosi ho visto i posti dei vostri incontri le faccio conosciute le persone che ci siamo viste già e che conosciamo e mi ha dato un grande una grande gioia vedere tutte insieme è stato molto bello vedere anche luca che ha detto che ogni tanto compariva ma stanno con i vacanze sta lavorando la verità sta con loro lì e allora noi facciamo la nostra preghiera per cominciare chiediamo agli spiriti benefattori di essere qui con noi nelle nostre case in questo momento anche quando che qualcuno vede indifferita nel momento che voi collegate è quel momento che è stato entrando in connessione col divino questo divino che abbraccia tutto abbraccia tutti e che è sempre presente vicino a noi che diamo la protezione di questi spiriti benefattori per noi per la nostra famiglia per la nostra casa eh chiediamo anche che sia magnetizzata queste acque perché possiamo utilizzarle usarne delle nostre problematiche mentale fisica e emozionale chiediamo inoltre agli spiriti benefattori di essere vicino a tutte le nostre al nostra famiglia e a tutti i nostri cari e a tutti a tutti indistintamente perché questo è un momento eh di grandi transizioni di grande dolore che l'umanità sta attraversando e abbiamo bisogno di essere uniti nella nostra fede grazie grazie ragazzi allora io metto eh condivido eh condivido con voi il video il schermo che oggi finiamo il capitolo otto del Vangelo secondo del Vangelo della del libro degli spiriti ok eh un attimo solo che metto qua e diminuisco qua ok allora nel capitolo eh eh riusciti a leggere la pagina ok è piccolino o è buono buono ok eh allora eh questa è la legge del progresso noi abbiamo fatto già la prima la uno due no i popoli di generato le civilizzazioni oggi facciamo un progresso della legislazione umana e influenza dello spiritismo nel progresso quando diciamo spiritismo vuoi dire la la quella che è stata quella filosofia codificata da Kardec ma anche eh qualsiasi eh filosofia in cui il mondo spirituale eh ci ha dato delle indicazioni e ci ha dato delle eh delle condotta di vivere e che ci ha insegnato qualcosa non è solo spiritismo come dottrina o come filosofia è anche come cosa non stiamo nella domanda settecento novanta quattro il progresso della legislazione umana leggo io perché dovete avere pazienti pazientare perché devo fermarmi per fare delle dei commenti così non non vi non vi do fastidio spero di non dare fastidio nella lettura allora progresso della legislazione umana la eh settecento novanta quattro la società potrebbe essere retta da solo leggi naturale senza concorso delle leggi umana noi abbiamo saputo che le leggi naturali sono le leggi divina sono le leggi eh che regolano tutti i mondi non solo la terra ma tutto l'universo è la legge eh dell'amore è la legge eh diciamo così che dio quando ha creato tutto il tutto ha fatto queste leggi immutabili è la card che sta domandando agli spiriti eh ha detto ma possiamo vivere solo con la con la legge divina senza bisogno di legge umana no sarebbe possibile se fossero ben comprese ossia eh sarebbe tranquillo no se noi veramente se seguissimo le leggi divina se non ho avessi la volontà di praticare le esse sarebbe lo sufficiente ma la società ha le sue esigenze ha bisogno di legge particolare e io messo una cosa dicendo che ogni popolo ha le sue esigenze per esempio una legge che è necessaria per gli schimisi per noi non è necessaria perché loro hanno un comportamento modo di vivere da schimisi e noi qua in Italia abbiamo altri tipo di modo di comportamento eh che è regolato dalla società quando che si è sviluppata eh dicci ma perché stiamo leggendo tutta questa roba non che ci interessa questo ci interessa sì perché possiamo comprendere un po' di più e ci lamentare un po' di meno perciò stiamo leggendo tutta questa cosa che è importante qual è a causa della instabilità scusate qual è a causa della instabilità delle leggi umane che le leggi umane noi sappiamo che oggi è di un modo un giorno l'altro giorno è di un altro modo no eh e poi è diversa della legge divina perché è immutabile perché Dio ha creato e così è in tutti i cosmi per funzionare armonicamente e con equilibrio la legge umana invece no in tempo di barbari sono stati più forti a fare le leggi e hanno fatto a loro vantaggio è stato necessario modificarle nella misura in cui gli uomini hanno compreso meglio la giustizia infatti durante il periodo dei barbari quando eravamo barbari no o incivilizzati avevano delle certe leggi addirittura di sentenza di morti altre cose ma prima mano che l'uomo si è civilizzato eh queste leggi si sono furono eh modificate no le leggi umane diventano più stabili nella misura in cui si avvicinano alla vera giustizia ossia nella misura in cui sono fatte per tutti e si dimenticano e si identificano con la legge naturale ma mano che l'uomo va eh evoluendo va progredendo evolui e progridi eh le leggi si avvicinano più alla legge divina perché eh la la giustizia è vera giustizia infatti card che poi fa un commentario di queste di queste di queste risposte e lui dice così la civilizzazione ha creato per l'uomo nuove necessità e queste necessità sono relativa alla posizione sociale che eri si è creato egli ha dovuto regolare diretti i doveri di questa condizione con le leggi umane ma sono ma sotto l'influenza delle loro passioni le o gli uomini hanno sovente creato dei diritti dei doveri immaginari che la legge naturale condanna e che i popoli cancellano dai loro i codici man mano che progrediscono infatti quando quando un uomo era diciamo quando era ancora nella quando è stata creata quando sono state create queste leggi no pensiamo a periodo feudale no in cui le persone lavoravano c'erano i i vassali del re e c'era il popolo il popolo non che i contadini quelli che lavoravano per non avevano diritto a niente la loro vita era nelle mani delle delle nobili famiglie loro disponevano della vita loro come se fossero animali che loro ci devono ci devono a piacimento non esistevano queste leggi che loro hanno utilizzato ma man mano che l'uomo progredisce queste leggi diminuiscono e l'uomo diventa più saggio e usa delle leggi per migliorare la sua vita la legge naturale è immutabile e la medesima per tutti la legge umana è variabile e progressiva essa solamente ha potuto sancire nell'infanzia delle società il diritto del più forte infatti la legge naturale è quella di dio è immutabile e la legge questa umana è sempre il diritto del più forte anche se dopo che è stata creata la carta dei diritti umani no perché se e che se che l'uomo ha che dice siamo un'umanità non siamo ricchi poveri e neri bianchi e chissà paesi di un modo paesi di un altro modo credenza di un modo credenza di un altro modo no siamo tutti è uguale da perante dio perante tutti no e adesso l'umanità ha cominciato a crescere ma se pensiamo a qualche secolo indietro era ma ancora oggi ci sono ancora alcuni popoli alcune nazioni che vivono ancora questo tipo di legge principalmente quelle e quelle che sono dittatoriali no 796 la serie la severità delle leggi penale non è forse una necessità dello stato nato attuale della società e lui risponde loro rispondono una società corrotta ha certamente necessità di legge più severa purtroppo queste leggi si prefigono di punire il male quando è ormai è fatto piuttosto che dissecare la sorgente del male solo l'educazione potrà riformare gli uomini allora essi non avranno più bisogno di leggere di legge tanto rigorose infatti attraverso l'educazione un individuo un individuo educato non parliamo di sociopatici non parliamo di gente che sta fuori con la testa e che c'è la cattiveria dentro stiamo parlando della massa della umanità in generale no che è questa legge severa e punivano per poter dare l'esempio che se tu fai così succederà questo no ancora in alcuni paesi se tu hai rubato ti tagliano la mano che è esagerazione non di una cosa insegna educa il popolo che il popolo sarà meno avete a sbagliare è chiaro che dependendo del bisogno del popolo se tu hai fame e tu ruba il pane per dare al tuo figlio la legge una legge severa diciamo così sarebbe pura ingiusta no perché no tu non hai fatto perché tu hai rubato perché hai avuto l'occhio per il bene di quell'altro non tu hai avuto l'occhio per la necessità del tuo figlio quindi dependendo dell'avuto morale dell'uomo queste leggi saranno meno rigorose poi va domandato come può l'uomo essere indotto a riformare le sue leggi non può accadere ciò accade in modo naturale attraverso la forza delle cose e l'influenza delle persone da bene che avviano l'uomo sulla strada del progresso monte leggi l'uomo già riformato e monte alto e ne riformerà attendete questo lui sta parlando c'è nel diciottesimo século 1850 60 vuoi dire è vero è vero veramente così man mano che a uomo è a arriva no con delle con delle nuove idee quando nelle varie società nascono sempre quelle persone di spicco che dice perché non cambiamo la legge perché così farà meglio no ci sono pure quelle che fanno le leggi solo per loro ok ma queste qua non sono persone da bene no sono il mondo spirituale ogni tanto ci fa nascere su questo pianeta delle persone per aiutare a sollevare come come una leva per dare questa in questo impulso all'umanità poi dice qua è la stiamo già nella parte finale della della di questo capitolo influenze del mondo degli spiriti su progresso eh lo spiritismo diventerà una credenza popolare o rimarrà un retaggio di pochi allora lo spiritismo qua noi diciamo come dottrina come fede come filosofia ma anche come la conoscenza dell'influenza del mondo spirituale nella nostra vita tu non c'è bisogno di essere spiritista per poter comprendere certe cose assolutamente un cattolico un buddista o qualsiasi altra religione possono capire determinate cose vuoi dire che basta che siano collegate a questa idea dell'influenza del mondo spirituale nella nostra vita ma come lo spiritismo perché spiritismo perché erano dei spiriti se io dice cristianesimo perché era cristo che parlava no buddismo perché era buddha che diceva spiritismo perché sono dei spiriti che parlano non è che è creato così perciò è card che ha dato questo nome perché erano dei spiriti che stavano parlando quindi io non posso mettere dice dottrina di card che non esiste non sono io io faccio le domande l'unico mio contributo è le domande poi loro fanno tutto il resto e così è andato allora loro rispondono diventerà una credenza popolare certamente diventerà una credenza popolare e segnerà una nuova era nella storia dell'umanità perché è nell'ordine naturale delle cose è giunto tempo in cui deve occupare il suo posto tra le conoscenze umane nonostante lo spiritismo dovrà sostenere grande lotte ancora di più contro l'interesse che contro le come di più contro l'interesse che contro le convinzioni perché non bisogna nascondersi ci sono persone interessate a combattere alcuna per amore proprio altra per ragioni completamente materiali ma coloro che lo che lo avversano trovando si sempre più isolato saranno obbligati a pensare come la maggioranza se non vorranno di rendersi ridicole la verità è lo spiritismo ad oggi come oggi nel mondo attuale no qua in italia sta cominciando a essere conosciuto ma in altre parti del mondo in america è pure in inghilterra o in altri paesi nel mondo e poi in brasilia noi abbiamo iscritto né in china e giappone in canada abbiamo dappertutto il gruppo spiritista comincia a conoscerlo che il libro degli spiriti è stato scritto e in ebraico wow pure pure israele si conoscerà pure il popolo israeliano conoscerà e e come è una una filosofia molto razionale anche se parliamo di spirito che sembra una cosa irrazionale ma noi sappiamo che la prova di tutto ciò è stato davanti a noi dappertutto e essenziale di tutto il mondo stanno facendo ricerca su questo non se ne parlano ok non è un problema noi sappiamo e sappiamo quali dove stanno parlando e chi ne parla e sappiamo che sono persone autorevole non sono persone così qualcuno che sta dicendo perché dice sono persone molto serie medici filosofo filosofi fisici chimici gente di di un certo spessore addirittura in intellettuale i giuristi che fanno le leggi stanno facendo ricerca e stanno portando avanti questo discorso sarà conosciuto è chiaro che c'è una lotta molto grande ancora contro queste idee no perché non è facile portare avanti delle delle nuove idee dei nuovi concetti ma arriverà e questo commento che fa carte che no le idee si trasformano solo col tempo e mai immediatamente il nostro problema è che noi vogliamo tutto qui subito vogliamo che sia adesso ma alcune trasformazioni noi non ne vedremo perché saremo già disincarnati chissà no o saremo già ritornati e lo vedremo con altri con altri occhi con altro corpo ma c'è bisogno di tempo è un tempo c'è un tempo di sequenza delle cose perché se è una cosa immediata no è difficile da da prendere pede non può essere che tu che sia una cosa immediata perché le persone poi si sono molto sono molto è superficiali si scordano subito deve essere una cosa che piano piano si va trasformando dentro e questo è quello che card che sta dicendo e se si indeboliscono di genera si generazione in generazione e finiscono come sparire queste idee no è poco a poco insieme a coloro che hanno professato costoro vengono sostituiti da altri individui ispirati da nuovi principi il mondo spirituale ci manda sempre nuovi individui che hanno altri principi più superiori per aiutarci a camminare come avvene per l'idea politica guardate paganesimo certamente pochi oggi che lo professano l'idea religiosa di allora paganesimo anche lì ha sofferto dei cambiamenti è chiaro che nell'oriente ci sta il paganesimo nel senso di quanto tante idee tante cose ma ma non è non è negativo questo perché è uno solo poi ci sono i co creatori altri dei piccolini che aiutano lui ossia i spiriti di luce che lo aiutano nel suo nel suo nel suo processo di creazione no chiediamo nomi di altri dei non è un problema il nome per noi non ci fa differenza importante per noi è il concetto ciò nonostante molti secoli dopo l'avvento del cristianesimo quell'idea avevano lasciato delle tracce di paganesimo che solo il completo rinnovamento dei popoli ha potuto cancellare noi ancora portiamo quelle conoscenze attaviche quelle conoscenze antiche che perché è difficile da da levare di tutto no principalmente chi viene da qualche altro tipo di 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 religione o qualche altro tipo di società che avevano questi interessi arriva avverrà lo stesso per lo spiritismo e esso fa molti progressi ma ci sarà ancora per due o tre generazioni un fermento di incredulità che solo non vale tempo di superare tutta via la marcha del spiritismo sarà più rapida di quella del cristianesimo perché il cristianesimo stesso che gli abri la strada e è su di esso che lo spiritismo si appoggia vuoi dire il spiritismo non è un spirito noi siamo un spiritista cristiani quindi non stiamo cambiando il cristianesimo noi stiamo rinnovando richiamo cristianesimo redivivo ossia revigorare rivivere questo cristianesimo primitivo che si è perso la idea di questo cristianesimo primitivo il cristianesimo aveva doveva dovuto distruggere questo tipo di di concetto antico lo spiritismo non ha che da edificare ossia noi attraverso le parole di Cristo e stiamo costruendo qualcosa allora qua dice poi 799 stiamo comungo parlando delle leggi del progresso non in quale modo in quale modo lo spiritismo può contribuir al progresso abatendo il materialismo che è una delle piaghe della società lo spiritismo fa comprender il nome dove sta il loro vero interesse non è essendo più sulla vita non è essendo più la vita futura offuscata dal dubbio non è noi non abbiamo più dubbi perché sappiamo che esiste un mondo un altro mondo un'altra dimensione che noi viviamo non l'uomo comprenderà meglio che può assegurare solo avvenire per mezzo del presente quello che facciamo oggi sarà la conseguenza della vita che avremo dopo quando rincarniamo un'altra volta è meglio farla bene adesso e poi non lamentarci nella prossima e perciò è importante essere essere coscienti conoscere le cose distruggendo i pregiudizi di pregiudizi di sette casta colore lo spiritismo insegna agli uomini la grande solidarietà che deve unirli come fratelli a noi non ci interessa se tu sei buddista cattolico o protestante o qualsiasi altra cosa l'importante è che siamo fratelli siamo esseri umani non c'è una diciamo io sono italiano io sono brasiliana ok siamo abbiamo abbiamo delle cose divertenti diversa da condividere perché se erano tutti quanti uguali che noia no invece avendo delle cose da condividere noi ed è più dinamico è più per esempio alcune alcune civiltà per esempio in brasilia che è una è una miscigenazione ossia un miscuglio di di razze no di tutto il mondo poi abbiamo gente di tutto il mondo lì in brasilia che si sono mischiati tra di loro tra è la popolazione autotone tra gli schiavi tra i portoghese italiano e arabo di giapponesi cinesi tedeschi di tutte le razioni nazioni no quando quando ci sta una 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 malattia addirittura pure pure adesso il virus no è accade siamo stanno morendo pure brasiliano che libera una condizione sociale non per colpa della solo della malattia ma siamo più resistenti perché come i cagnolini no quelli di razza subito si ammalano e succede qualcosa invece quei bastardini no che sono metisi metici non è più facile loro hanno vita più lunga perché perché il mister mischiare no fa sì con chi migliori la razza ma migliori la difesa perché prendendo da tante razze diverse si crea una persona più diciamo così come se facessimo una un esperimento genetico mettendo le buone cose di tutte le razze no e diventa un soggetto più forte e così con i popoli succede la stessa cosa e il progresso va più avanti avendo popolo più 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 salve poi dice qua non c'è da temere che lo spiritismo possa non triunfare a causa dell'indifferenza degli uomini e del loro attagamento alle cose materiale e loro rispondono vorrebbe dire che conoscete bene poco gli uomini dicono gli spiriti a card che non se si pensasse che una qualsiasi causa potesse trasformare come per l'incanto sarebbe giusto ma invece non è così le idee si modificano poco a poco quello che lui sta mettendo enfasi in tutte le cose le idee si trasformano con tempo dice qua poco a poco secondo l'individuo e ci vogliono delle generazioni per cancellare completamente le tracce delle vecchie abitudini non è di un giorno all'altro noi vogliamo che sia subito io voglio essere perfetta per migliorare voglio arrivare unirvana alla elevazione illuminazione ascensione subito mi no non ci sono così cioè ciò è un processo di trasformazione è lento perché non non può essere di un giorno all'altro perché deve coinvolgere tutto tutto il nostro aspetto olistico di tutte come dicono e quelli che lavorano con le cose olistiche tutto l'aspetto dello del soggetto sopra questo aspetto fisico so aspetto mentale so aspetto emozionale so aspetto spirituale tutto è coinvolto non può essere di un giorno all'altro è piano piano ma arriviamo comunque la trasformazione non può dunque operarsi se non alla lunga gradualmente e passo dopo passo a ogni generazione una parte del velo si dissipa finché verrà esparciato definitivamente ma se nel frattempo esse riuscisse stipare nell'uomo anche un solo difetto ciò sarebbe pure un passo che ne avrà fatto fare e perciò per ciò stesso un grande bene perché questo primo passo renderà gli altri passi più facili anche se cambiamo una sola cosettina io ero io avevo sempre è molta rabbia avevo problema con la rabbia e adesso ciò di meno già questo già è un passo per entrare nella già ti faccio facilità o facilità facilità gli altri passi diamo il primo poi un altro poi domani mi riposo poi domani faccio un altro e così va allora perché perché gli spiriti non hanno insegnato in tutti i tempi quello che insegnano oggi perché non hanno detto già prima perché non che stanno dicendo queste cose a domandare do card e allora hanno detto voi non insegnate ai bambini ciò che insegnate ai adulti e non date al neonato un alimento che non potrebbe digerire ogni cosa ha suo tempo non travolto dando la condizione fatto del tempo piano piano dunque di spiriti hanno insegnato molte cose che gli uomini non hanno capito e lo hanno esnaturato ma che ora possono comprendere coloro insegnamento sia pura incompleto hanno preparato il terreno a ricevere la semente che si sta che sta che sta fruttificando oggi vuoi dire anche se è stato detto alcune cose in passato no l'uomo non hanno capito e hanno travisato vediamo la vediamo cristianesimo ragazzi quando mai tante tante leggi norma che noi vediamo oggi addirittura questa guerra Gesù ha detto qualcosa su questo non ha mai detto questo non ha mai detto voi fate delle lavorate con le erbe cosa se ti strega dovete essere bruciate quando mai quando mai ha detto che si doveva fare l'inquisizione quando mai ha detto che dovevamo annientare un popolo perché potesse seguire quella fede non ha detto questo assolutamente perciò le cose devono seguire il suo tempo perché se vengono prima gli uomini non capiscono lo esnaturano e lo fanno diventare un'altra cosa e poi per uscire è più difficile questa domanda invece a 802 mi sono messa a ridere perché è una domanda che facciamo tutti che che tutti quanti mi hanno domandato già questo un sacco di volta anche io mi sono fatta questa domanda poiché lo spiritismo deve insegnare un progresso dell'umanità perché gli spiriti non accelera questo progresso con le manifestazioni universali potenti da convincere anche più increduli perché non scende una navicella spaziale qua e fa vedere tutti gli alieni che scendono e ci aiutano perché non vieni è Gesù Cristo qua sulla terra ti scende che diceva facciamo facciamo diciamo perché non c'è questa una manifestazione eclatante no io mi sono messa a ridere veramente messo pure la faccina sorridente perché veramente è così e loro rispondono alla me alla stessa maniera no voi vorresti dei miracoli ma Dio le spande a pieni mani sul vostro cammino lui ti dà miracoli ogni giorno eppure avete fra di voi uomini che ancora lo renegano o stesso Cristo convince forse i suoi contemporanei con il prodigio che ha compiuto Cristo ha fatto un sacco di miracoli ha fatto un sacco di cose e ha convinto qualcuno che lui era Cristo aspettato che era un messia aspettato voi stato lì in mezzo agli ebrei lì nella sinagoga lui è andato e ha detto io sono quello che voi state aspettando e loro non hanno creduto e oggi non vedete forse uomini rinegare i fatti più evidenti che sono accaduti sotto i loro occhi alle volte accadono delle cose con noi stessi che dice no no questo è una coincidenza diciamo così è una coincidenza no non ci sono forse tra di voi quelli che dichiarano che non ci crederebbero neanche se li vedessero non ci credo manco se ti vedo non c'è gente che dice così no non è attraverso il miracolo che Dio vuole redimire gli uomini nella sua bontà e lui vuole loro lasciare il merito di convincereci per mezzo della ragione se non ci entra in testa se non ci convinciamo noi per il nostro per la logica per il ragionamento logico per il ragionamento non c'è niente che ti convinca c'è un filosovo tedesco che diceva perché crede qualsiasi prova è accettabile non c'è bisogno di prova ma perché non ci crede nessuna prova è sufficiente non è sufficientemente non ci crede è impossibile non c'è niente che tu possa dire che la persona possa convincere e poi quando ci sta l'ignoranza di mezzo ossia perché ignorano le cose di quelli ho paura degli ignoranti perché tu non può ragionare con la gente che ignora determinate cose perché loro non sanno non lo sanno proprio perciò qua questo capitolo è finito la risatina è finito perciò quando quando noi siamo su su questo percorso non quando stiamo crescendo in questo percorso non c'è non c'è è una cosa che vieni non è una cosa automatica viene piano piano negli anni ci vuole un po di pazienza perché la forse grande merito la grande sfida che tutti quanti noi siamo venuti qua su questo pianeta a compiere è la pazienza perché noi vogliamo comunque tutti subito e non è così che accade no ok ragazzi è l'ho detto abbiamo detto la nostra abbiamo fatto pure la 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 smiley nella risatina la emoticon della del sorriso della risata perché è comunque una domanda che mi sempre può perché dio non ha fatto già tutti quanti completi no perché ci dobbiamo fare queste cose perché non hanno già detto tutte queste cose perché vuole che noi impariamo da noi perché così siamo convinti così siamo sicuri di quello che sta accadendo così siamo signore del nostro destino e siamo signore delle nostre azioni e potremo così aiutare nella co creazione perché anche voi quando Gesù diceva siamo dei e perché siamo parti di questo di questo universo di questo dio e co creiamo con le nostre idee insieme ai grandi ai grandi spiriti che ci vengono aiutare ok allora vetti la vostra e sai cosa è un po frustrante c'è frustrante un po vabbè passiamo il termine frustrante no pensare appunto che questo cambia i certi cambiamenti li vorremmo tutti no ma dopo le spiegazioni di stasera c'è questa consapevolezza che molto probabilmente questi cambiamenti noi non li vedremo in questa nuova in questa nostra in questa nostra esistenza attuale no perché visto che servono appunto generazione generazioni per i cambiamenti no quindi noi rimarriamo rimaniamo un pochino con l'amaro in bocca se vogliamo no no perché no no nel senso c'è li vorremmo vedere ma comunque allora vedremo comunque perché noi rinasceremo su questo mondo e lo vedremo con altri occhi come ho detto no dice ma io voglio ricordare che ne sappiamo che ne sappiamo noi che attraverso già questo cambiamento sarà possibile che tu ti possa collegare alla mi ha aberto scusate che cosa vuoi dire tra che ai ragazzi non lo so elimina i tracchi non lo so va bene lascio li non metto nessine non perché mi ha aberto una finestra su computer che non so che significa lascio li è comunque questo cambiamento lo vedremo se noi guardiamo avanti noi vuoi dire io mi sento orgogliosa diciamo così mi doma una lecadina slurp slurp il mio ego un pochettino no perché sono orgogliosa di fare parte di questo momento perché ok ciao saverio dispiace che tu non senti 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 bene questo cambiamento lo sto lo sto aiutando pure io faccio parte di questo cambiamento no e i miei figli si beneficiaranno me nipoti che 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 dopo si beneficiarà di tutto ciò eh perciò eh è una è importante è questo che anche se il mondo di toso non il mondo del futuro che noi stiamo immaginando vedendo e cosa che che noi stiamo lottando perché avvenga poi sinceramente è carlo che ha detto questo nel mille ottocento e sessanta cinquanta cinquantotto eh ha detto queste cose ma da là a oggi eh è successo tante di quelle cose è successo di tutto in cento anni ragazzi non neanche cento in cinquanta in cinquant'anni è successo un cambiamento epocale di tutto nelle persone nello nella nella società nell'umanità nell'umanità in tutto nella tecnologia cambi in continuazione come si sta accelerando il processo non è detto che non vedremo è chiaro che quel mondo ideale dove il bene sovrasta il male quello io credo io credo che dovrò aspettare le prossime incarnazioni ancora ma sono orgogliosa di fare di farne parti capito eh 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 Stefano apri il microfono no 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 apri ecco allora non pensi che con lo sviluppo di tutte queste tecnologie con l'umanità che cambia la la distrazione sia così elevata che possa inficiare lo l'avanzamento dello spiritismo è vero può può accadere che eh attraverso questo io stavo pensando no eh ho visto eh ho condiviso pure perché io mi piace condividere le cose innovativa no eh il progresso diciamo così ho visto una specie di robot che 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 riesce a in in pochi in poche ora a mettere a alzare una parete di ticcio di di mattone no ah io io pensavo prima di mettere eh mi piace di condividere io stavo pensando devo condividere o no perché ho pensato ma e poi i lavoratori che mettono mattone su mattone rimarranno senza lavoro no se avendo questo robotino eh diciamo così non chiameranno gli operai per lavorare lì no ma poi ho pensato il progresso inevitabile non si può arrestare perché non eh non da perché mancherà lavoro al lavoratore ma queste diciamo così quel lavoro pesante loro non dovranno non faranno impareranno a lavorare il robotino impareranno a utilizzare i robotini faranno altre cose faranno forse larga massa faranno forse la eh diciamo il cemento lavoreranno con altre cose ma non di quello di mettere matone su mattone per analizzare le le costruzioni le case fare cose cose così eh eh io condiviso perché il cambiamento ci sta eh eh atinge tante persone attinge persone che alle volte non ci pensiamo proprio ma che in realtà eh sta facendo tutto perché i lavori manuali pesanti siano eliminati perché l'uomo possa usare di più la sua mente per creare altre cose e la sua mente e la sua mano per non non dover affaticarsi più prima non non do non dobbiamo adesso portare le pietre ci sono le macchine che portano queste pietre ci sono altre cose che fanno dei questi lavori più pesanti l'essere umano non da non dovrà so sovraccaricare di queste cose perché lui è destinato a un altro servizio a un'altra umanità dove il suo pensiero la sua azione la sua manualità potrà essere per creare l'arte per poter creare altre cose che possono essere eh migliorata nella società perciò eh che sta sta accadendo noi stiamo già vedendo solo che dobbiamo eh come noi eh abbiamo imparato a a percepire i segnali del mondo spirituale quando ci vuole come comunicare con noi quando ci vuole dare qualche messaggio quando ci vuole eh diciamo così far vedere che esiste il mondo spirituale dello stesso modo dobbiamo imparare a vedere i segnali di questo cambiamento che già è in atto è perché noi siamo concentrati nella nostra vita nei nostri problemi e non vediamo lontano io 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 facevo una considerazione nelle prime le prime nei primi punti abbiamo letto quando appunto dicevi che lo spiritismo non preclude a nessuna religione in fondo siamo tutti esseri umani e l'umanità e mi è venuto proprio da pensare il motivo per cui io abbandonato il buddismo perché praticamente non era la religione la filosofia buddista che mi impediva di rimanere buddista ma l'organizzazione cioè le persone perché a un certo punto mi ha detto sceglio di qui o di là non puoi fare tutte e due e quindi ho fatto la mia scelta e ne sono ben felice però eh quello che mi riallaccia a quello dicevate ora io credo che come dice Kardec eh ci vuole fare pazienza e fare passo passo perché come Gesù parlava agli ebrei con le parabole perché era un popolo ignorante e in altra maniera non avrebbe compreso quello che lui voleva dire così anche noi ora cioè io credo che probabilmente l'umanità ancora non è pronta per fare per quello che dice Andrea di vedere questo cambiamento così perché sono cambiamenti talmente radicali talmente importanti che secondo me ci vorrà ancora della storia sì allora immaginiamo eh c'è stato c'è stato c'è stato un scrittore eh che eh che anticipato delle cose delle idee varie non solo uno ma vari scrittori che hanno anticipato i tempi e varie idee no e che ha dato un'idea più o meno di cosa può accadere quando ci sta un cambiamento troppo veloce troppo radicale chi è si ricorda di quella di quello è Orson Welles che nella radio ha detto che i marciano ci stanno invadendo ci stanno invadendo e ci stanno e ha causato un panico ha causato la radio ha lanciato questa questo scherzo non questo scherzo radiofonico dicendo che noi eravamo stavamo essendo invasi qui in America dagli alieni no guarda è successo di tutto se è fermato la 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 città e popolo non il paese praticamente è stato un panico generale c'è gente che si è uccisa c'è gente che si è che si è buttata che c'è gente che ha fatto ha fatto chacalaggio ha rubato è stato un panico generale perché perché ecco per alcuni cambiamento non possono essere così eclatante no perché immaginiamo questa gente che sta nel medio oriente che sono integralisti che succede se mi mi arriva una navicella come fanno a spiegare che quell'essere a parte che loro metragliano subito subito vengono a metragliare ma non diciamo che non succede no che non riescono a uccidere questi qua come spiegare tutta la concezione filosofica religiosa che loro hanno vissuto per secoli e secoli vedendo un alieno come tipo e ti o tipo quelli la lunghi con tutto quasi trasparente vedendo davanti a loro che cosa è sempre un shock no e poi se io sono d'accordo con te cioè io sono io non vorrei sinceramente io vorrei sì ma io dico noi noi non si vedrà sicuramente il totale cambiamento di questo pianeta e non sarà più un pianeta di spiazione però io sono come te cioè il fatto di aver compreso che comunque non la morte non è quella che ci hanno segnato fino a ora ma praticamente non esiste esiste soltanto la presa del corpo fisico aver compreso che comunque siamo veramente un tutt'uno indipendentemente dalla razza se questi concetti cominciano a far parte di noi ragazzi si sarà il primo passo capito è bello sa che cos'è è che lui è è chiaro che io voglio vedere l'alieno quello la lunga cosa voglio è curiosa curiosità mia ma non posso che venga perché io voglio no perché io so che porterà più scompiglio una cosa così immediata a delle persone che non sono pronte ah ma io che siano tutti pronti perché possa vedere qualcosa è che caspita perché non posso fa noi non possiamo essere egoisti no non possiamo essere egoisti perché è l'umanità tutti noi tutti noi dovremo evolurare evolverci tutti noi dobbiamo cambiamento tutti noi dobbiamo crescere evoluzione per tutti no è pure quello o talebano la o integralista chi sia non voglio giudicare talebano ma quella delle notizie che abbiamo no è lui lui pure avrà la sua trasformazione anche lui si trasformerà non in questa vita in qualche altra vita ah ma lui non ci crede non è importante che lei creda che lui creda o no perché è una legge e quando è una legge indipendentemente come la legge di gravità ma non credo nella legge di gravità ma se tu ti butti tutti non è no indipendentemente che tu creda o no esiste e si esiste e è una legge è per tutti non è solo per me non è così penso lei la legge dovrà essere anche cioè per arrivare a quello che è il nostro obiettivo deve cambiare tante cose in questa società c'è ancora lo sfruttamento dei bambini c'è ancora cioè ho visto un film sui congo in dove hanno raccattato nelle miniere e questi materiali servano per fare cellulari che che li trattano come come e che nessuno ne parla o ogni tanto cioè capito qui in questa società c'è tanto da fare tanto cioè siamo ancora veramente in in dei po in delle parti del mondo a un livello veramente primitivo ai ragazzi e io ho detto a voi ho fatto di te di andate a vedere le conferenze vedete la quantità ma la quantità migliaia e migliaia di idee invenzione che creazione non solo a livello materiale ma a livello concettuale ci sono dei sociologi ci sono dei psicologi ci sono dei medici della gente che fa delle conferenze che sono proprio a livello concettuale e e o cambiamento è in atto desiste già e possiamo vedere toccare con mano è chiaro che non per tutta l'umanità perché come faccio a convincere il talebano di amare lo prossimo dobbiamo prossimo su che quello che attaccato a lui e sua famiglia ma non prossimo nel senso di fraternità universale come faccio a convincere qualcuno amare l'altro se c'è c'è in famiglia in famiglia dovevo scomodare il medio oriente no a casa nostra come faccio a amare me se siamo vestiti giallo se siamo se c'è i genitori padre figli mamma e mariti cosa se c'è questo a livello personale perciò il cambiamento è piano piano è importante fare il primo passo è sapere e volere cambiare il cambiamento è non è automatico è una è una scelta e quando facciamo quella scelta quella scelta rimane dentro perché quando abbiamo deciso è pronto e vuoi dire che siamo pronti al cambiamento e tutti noi che siamo qua oggi voi che state lì sullo specchio dell'anima non è tutti noi facciamo parte di questa famiglia e siamo io sono orgoglioso non so voi ma io sono contenta di partecipare posso dire quando arriveremo là nel mondo spirituale ci incontreremo lì ma io c'ero ti ricordo che c'eravamo pure noi capito ci faremo proprio una una tavolata no e che c'eravamo dicendo ti ricordate che c'ero pure io saremo contenti di aver partecipato di dare di dato il nostro contributo che sia pure solo di un pensiero positivo non c'è bisogno che devo fare qualcosa sarebbe meglio ma se non sono capace se non posso fare se sono impedita per qualche motivo basta comunque un pensiero basta che utilizziamo il nostro pensiero Andrea vai che tu stai fremmendo no no stavo ascoltando stavo ascoltando ti volevo soltanto vabbè visto che si stava parlando appunto di trasformazione eccetera eccetera vorrei vorrei girarti una domanda che ha fatto Antonio ti ha fatto Antonio sul eh sullo specchio dell'anima ok ok Antonio ti chiedo una domanda appunto per te Lela eh nel mutare ci si trasforma o si diventa e ti ringrazio allora eh nel mutare eh tu ti trasformi diventi no che una volta che ti sei trasformato sei diventato quell'essere eh della trasformazione no eh tu diventi dopo ma prima devi avere prima di tutto la voglia il secondo decidere scegliere e poi trasformare la trasformazione arriva e tu diventi quell'essere trasformato tu non sei non sarai più mai più come eri prima tu sarai un altro essere trasformato non diventi è come è come diciamo eh quando parliamo non di parliamo della del mondo espirituale io non sono Leila no mi chiamo Leila non sono io sto Leila sto Leila preciso momento sto Leila ma posso stare Giovanni domani posso stare eh Maria non un'altra ancora non un'altra vita in questa vita io sto Leila ma non sono Leila io sto Leila lo diventare è dopo la trasformazione non so sia sia risposto grazie ti ho qualcun altro che lo spettacolo dell'anima no per ora no non c'è nulla era solo questa domanda eh eh volete dire qualche altra cosa Dora Elenia Antonia Saverio Ciro Rosaria Bene eh dopo vi mando il testo di questa di questa lezione anche se è nel libro degli spiriti eh io messo queste a queste altre questi altri commenti eh per facilitare perché poi potete grifato diciamo così o segnato perché potete ragionare un po' di più questa lezione di oggi non questo queste domande di oggi che alla fine che la prossima è sulla legge di uguaglianza che lì è un tasto alle volte dolente perché parla della disparità nella ricchezza nella società non con disuguaglianza sociale la prova della ricchezza e della miseria uguaglianza di diritto dell'uomo e della donna e uguaglianza sulla di fronte alla morte non ci saranno e sarà un capitolo abbastanza interessante sull'uguaglianza capitolo 9 l'ottava abbiamo finito vi mando dopo i pdf di questo testo quando abbiamo finito la trasmissione che così potete leggere per conto vostro e fare i vostri ragionamenti e sabato pomeriggio alle 18 nell'ascolto fraterno se avete delle domande potete fare vi ascolto vi mando potete domandare se avete qualche dubbio ma quello che questo capitolo ci ha insegnato ci ha dato la diciamo così la direttiva di questo capitolo è è veramente un fatto della trasformazione poco a poco la gradualità la gradatività l'essere graduale del cambiamento che non è immediato qua stiamo dando il concetto di tempo non nel senso di tempo terreno non nel tempo che abbiamo bisogno per poter transformarti e diventare prendendo la l'espunto di Antonio e diventare un nuovo essere che come diceva Paolo io sono un nuovo uomo non sono più quello di prima quindi il suo cambiamento lui è cambiato e è diventato un altro da Saulo è diventato Paolo è diventato un cambiamento addirittura perché all'epoca loro avevano una abitudine quando loro abbracciavano una certa idea una certa cosa loro si identificavano attraverso i nomi no è quindi da Saulo di Tarso lui è diventato Paolo dopo il cambiamento e questo cambiamento in una vita è riuscito a cambiare era un uomo è un uomo normale vuoi dire non tanto normale no senso che lui era intelligente era era un fariseu che vuoi dire un avvocato un giurista uno che conosceva la legge doveva essere prossimo è rabbino sacerdote del tempio di Jerusalen che era una cosa grandiosa era diciamo così 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 fariseu così si rabbino cosa essere e sacerdote del tempio di Gerusalemme era era più alto tipo presidente della Repubblica e lui ha lasciato tutto dopo il cambiamento per diventare Paolo è questo e lui è passato la sua vita lui credo che è morto con quasi 80 anni ma 60 70 anni della sua vita gli ultimi è stato di un cambiamento che addirittura che addirittura lui non sentiva neanche più le la gente che picchiava che faceva male a lui lui diciamo così era in estese non sentiva più i dolori questo cambiamento in una vita in una vita il suo essere eccezionale perché era un uomo culto ci sono tante persone culte no era un uomo culto era un uomo di legge era un uomo che conosceva tanto le scritture come le tradizioni greche e romane vuoi dire era una persona preparata intellettuale ma era un uomo ma era un uomo lui non era un essere superiore non era un essere superiore era un uomo come tutto come siamo noi io quando quando mi sento un po in difficoltà mi 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 riporto a lui ho detto se lui è ha supportato tutto quello no è riuscito a cambiare o speranza ce la faccio posso fare perché veramente è un grande esempio di perseveranza se tu ci pensi anche no ognuno di noi se si analizza la nostra vita perché se tu ci pensi voglio dire io non mi ritengo certo uguale a cinque anni fa per dirti no e quindi sono tutti step della vita che comunque è a portare a un'evoluzione è vero è vero tutti noi siamo un po da solo che diventiamo paolo perché abbiamo tutti delle delle vari gradini vari step come dice paola è che di gradino in gradino di passo a passo come dice chilometri si fanno con il primo passo sono importanti e questi passi comincia dalla nostra volontà e volere se stiamo apatici e ci lasciamo trascinare dalla corrente non combiniamo niente abbiamo spiegato una incarnazione forse ci sta pure qualche spirito che ci guarda in cannesco detto io voglio rinascere voglio incarnare e tu che stai spiegando la tua no spiegando solo la nostra incarnazione poi ci pentiremo tantissimo ma è importante è fare della nostra vita diciamo così non mettere un gradino alto che dobbiamo arrivare lassù no non dobbiamo arrivare lassù da nessuna parte dobbiamo essere solo migliore di quello che siamo stati prima che siamo stati ieri non c'è bisogno di molto alle volte un sorriso una parola una un essere comprensibile compassionevole come abbiamo letto nel Vangelo di domenica essere un po' compassionevole e avere pietà di noi stessi quella pietà che abbiamo già chiarito che non è ah poverino ciò pietà di lui ciò pena non è avere compassione compassione appassionatamente innamorarsi di noi non è come la musiquetta come abbiamo detto l'altro giorno dice io mi amo io mi adoro e non posso vivere senza di me è una canzone e è così non possiamo vivere senza di noi 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 siamo qui no e che devo fare mi devo amare devo amare mi stessa perché se non come è facile dove prendo i paragoni per poter dare amore agli altri perciò è un cammino alle volte difficile non è facile essere fare il cammino che facciamo noi perché una volta che intraprendiamo non possiamo fare a meno di ragionare è impossibile è impossibile tu fai delle scelte delle cose e poi è impossibile non ragionare tu ragioni comunque tu dici no non posso fare perché questo questo e quello ah no e se faccio questo e quello e la nostra più grande forza è sapere che il mondo spirituale è lì a due passi da noi è che i nostri amici ti aspettano per la festa per l'accoglienza per la festa di accoglienza che ci stanno preparando quando torniamo a casa del padre ma enquanto noi stiamo là per essere accolto con gioia dobbiamo darci da fare qua ah ma la gente non ci capisce c'è tanta incompreensione tanti tradimenti tanta delusione guarda ci sono i bonus ora dobbiamo acquisire i bonus come dice il nostro lar è quelli i bonus di tipo i punti i punti premio tutte le incompreensioni tutte le diventano bonus ora nel mondo spirituale ragazzi perciò non vi preoccupate che quello che che ci fanno diciamo così che noi riusciamo a sopportare chiaro che noi se andiamo a revidare no no ma lì no non esiste se riusciamo a lavorare questi punti diventano bonus ora poi nel mondo spirituale non vi preparate se arrivate già già con le tasche piene diciamo così arriva nella porta dell'umbrale mi dice no ragazzi posso pagare l'ingresso per l'altra per l'altra di città posso pagare guarda con questi bonus ora sto scherzando ragazzi non prendete queste parole che sto me scherzando io ho detto già che prima volevo essere cremata ma poi mi siperiscono con una targhetta così aiutante che così quando arrivo all'umbrale non vengono quelli spiriti aiutante aiutante cosa non lo so ma arrivo là con una targhetta aiutante perché così non mi vengono so già che c'è qualche cosa da fare e mi metto subito a lavoro c'è un testo molto carino che si chiama un spiritista nell'umbrale che poi posso pure mandare a voi che è molto carino chi racconta di questo di questo spiritista che è arrivato dell'umbrale ha detto ma come io sono spiritista ho studiato l'ho fatto ho letto e sto qua nell'umbrale sarebbe purgatorio non che ha letto non so l'arca sto qui nell'umbrale non è possibile come no ai arriva un mestre tutto vestito di nero vicino a lui e ha detto sì ma tu eri vanitoso ero orgoglioso devi lavorare questi aspetti di te per poter attingere un altro stadio e lui dice ah va bene ok cominciate a lavorare queste cose e poi dare una mano ai tuoi fratelli che stanno qua ad aiutare qua aiutanti perciò voglio la targhetta di aiutanti aiutare i tuoi fratelli e lui ha detto va bene cominciate a aiutare e lui ha detto questo spirito è arrivato lui e poi ha detto ok possiamo passare oltre no e lui mentre stava passando oltre ha pensato oh meno male che non sto là in mezzo a quella quella gentaglia non quella è scesa un'altra volta no è come quella di Santo Antonio un santo là che stava in una caverna che per vent'anni ha fatto l'eremita dentro quella caverna c'era il diavolo che lo tentava ogni giorno tentava ma io ti faccio vai mangiare vai vivere la tua vita tentava lo tentava e niente lui per vent'anni questo santo ha supportato le tentazioni del diavolo questa è una favoletta cattolica perciò che noi non crediamo nel diavolo ma comunque e tentava 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 e un giorno il diavolo disse una cosa mi sono scocciato questo qua è inutile che lo tenti non c'è niente da fare lascio perdere e ha lasciato e questo santo Antonio quando è uscito dalla caverna ha detto ah finalmente sono riuscito a vincere questo diavolo vedi come sono bravo e il diavolo lui è tornato a tentarlo la vanità la vanità c'è un film l'avvocato del diavolo che che durante che parla di questo che dice la vanità è la mia più grande il mio peccato è la mia invenzione più grande perché è quella che mette a perdere tutto che noi stiamo salendo no stiamo riuscendo poi qualcosa ti tira giù scusa e gli altri scusa Lella posso chiederti una cosa scusa rispetto a quello che hai detto prima non lo so perché mi è venuta in mente quando hai raccontato quell'aneddoto dello spiritista nell'ombra o no ma non lo so perché mi è venuta in mente questa cosa ma quindi prendendo l'esempio di quello che hai raccontato tu che questa persona qui sta salendo il che significa si presuppone che questo spirito abbia preso una consapevolezza maggiore e gli dà la possibilità di andare oltre e perché torna e perché dovrebbe cioè nel momento che ha preso una consapevolezza maggiore per quale motivo decade perché ha visto i fratelli sofferenti e ha detto a meno male che non sto là con quelli sofferenzi ma proprio per questo proprio per questo nel senso che lui è salita di livello nessuno non c'è nessuno che è perfetto completamente noi stiamo comunque crescendo quindi quella parte di lui doveva ancora lavorare ok capito la sua umanità io vi mando pure questo testo perché è interessante e carino perché noi dobbiamo vigilare 24 su 24 non dobbiamo perdere questa vigilanza e orare pregare non dobbiamo perdere questa vigilanza perché perché qualsiasi cosa ti fa cadere basta un minimo basta un pensiero ma pure ma che stiamo facendo un percorso espirituale no noi quando ero più giovane no quando stavamo facendo altri percorsi io mi sentivo meglio dell'altro perché io tenevo quella conoscenza io sapevo delle cose che gli altri non sapevano poi io dicevo poverini loro non sapevano proprio niente di questa roba capito li guardavano questi poverini che significava che io mi sentivo superiore a loro quando ho capito questo fatto io dico ops mamma mia che 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 sto facendo perché noi ci sentiamo sempre migliore di qualcuno che non siamo migliori che nessuno non siamo la umiltà vuol dire proprio che siamo tutti nella stessa parca ah ma quello è ricco c'è soldi non interessa lui può essere ricco ma essere povero perché lui ce l'ha solo i soldi il resto gli manca tutto il resto non vuoi dire non 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 dobbiamo metterci sentirsi in difficoltà o inferiore a nessuno e né superiore a nessuno perché non c'è nessuno che è superiore siamo tutti nella stessa parca quando ha detto Cristo che vuole essere grande che va a servire il più piccolo va a servire il tuo fratello va a lavare i piedi del tuo fratello se tu vuoi essere grande va a far prima il piccolo avere la umiltà di servire non avere vergogna di lavare i piedi del tuo fratello e con l'epoca doveva essere comunque lei ha detto ha fatto un tu ha fatto una ha detto una cosa veramente vera cioè anche in mondo di studio se poi uno lo tiene solo per il suo ego non è una cosa positiva rimane solo a noi perché effettivamente la cultura e il cioè rendi un servizio all'umanità a mettere a disposizione delle persone il tuo sapere sì noi io ho un cugino che ha cinque lauree questo ha passato una vita a studiare solo per sé mi dici è che serve andrà di là con bagaglio di nozioni infinito ma che non sono servite a nessuno solo a lui per il suo ego pure andrea ha dato ad esempio sono arrivato qua con mio bagaglio che era un medico un dottore un scienziato perché lui non era solo medico un scienziato un ricercatore vuol dire aveva un bagaglio grande che non ne ha servito a niente che ne faceva di tutta quella conoscenza niente perché la medicina del mondo spirituale è tutta un'altra storia parla di energia di vibrazione di corrente elettromagnetica di flussi di tante altre cose che qua non si conosce non si sa adesso stiamo cominciando a capire e quest'è allora andrea c'è qualcun altro lì dell'aspetto dell'anima no nessuna domanda nessuna ragazzi chiudiamo se non diventa troppo tardi vi ringrazio voi lì dell'aspetto dell'anima pure vi ringrazio di averci ascoltato voi che sapete che comunque siamo qui e se avete delle domande di proposta è sabato pomeriggio alle 18 sono a disposizione è chiaro non so tutte ragazzi perché alcune cose io devo studiare perché prima di parlare con voi li studio li preparo perché l'ho letto già tante volte ma rileggere con la consapevolezza di oggi è diverso da quando ho letto tanto tempo fa tutti noi siamo così perciò vi ringrazio vi ringrazio veramente di cuore perché mi fate compagnia chiudiamo che la luce degli spiriti dei buoni dei buoni spiriti sia con tutti voi nelle vostre case che illumini la vostra essenza nel vostro essere e come si dice namastè il mio essere divino saluta il vostro essere divino che è in voi vuoi dire riconosciamo l'altro come c'era nel film avatar io ti vedo so che sei ti riesco a vedere ti riesco a sentire ok un bacione buona notte a tutti ciao Andrea buonanotte ciao ciao a tutti buonanotte wow questo qua termina passo e chiudo ciao a tutti